Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video come abbiamo visto questa mattina sono uscite le prime carte di Alba Strike che uscirà in Giappone a dicembre ma oltre alle nuove carte sono uscite anche le reprinte ufficiali e capisci che un mazzo è forte, uno structure deck è forte quando ha questo tipo di reprinte le carte ovviamente confermate fanno parte tutte di l'archetipo brand Fallen of Albats adesso le andremo a vedere, tralasciando Fallen of Albats e il dragon metallico scuro chi non si che le conosciamo, andiamo a vedere praticamente le altre del set e andiamo a vedere, queste sono le carte, ok Albion, The Shounder Dragon, questa carta da noi è appena uscita quindi da noi è appena uscita da loro già la stampano in structure deck carta veramente molto buona, il suo nome è sempre considerato Fallen of Albats quando è sul terreno del cimitero se questa carta è nella mano al cimitero possiamo mandare un Fallen of Albats oppure un Brand Spellet Trap dalla mano deck al cimitero per applicare uno dei seguenti effetti se la mandiamo dalla mano possiamo specialare questa carta se la mandiamo dal deck possiamo piazzare questa carta in fondo al mazzo e poi piazzare e per poi pescare una carta quindi carta veramente, poi vabbè ovviamente questa carta l'abbiamo piazzata dalla mano peschiamo la carta è molto forte, è carta veramente molto forte e poi l'artwork è spettacolare andiamo a vedere la prossima carta che è la dogmatica Fleur d'Elise quindi c'è, va bene, va bene durante la main phase il mostro viene specialato nelle extra deck sul terreno effetto labido possiamo specialare questa carta dalla mano poi se controlliamo un'altra carta dogmatica possiamo negare l'effetto di un mostro scoperto sul terreno fino alla fine del turno, con una carta dogmatica dichiara un attacco vabbè possiamo far guadagnare tutti i dogmatici a 500 ma non è niente l'ultimo effetto non è niente di che è il primo effetto è quello fondamentale carta veramente pure questa giocatissima Branded in White, carta magia che forse sarà addirittura super non lo so, funzioniamo un mostro fusione dall'ex deck utilizzando i mostri dalla mano o terreno come materiale includendo un mostro drago possiamo mandare anche carte dal cimitero come materiale se utilizziamo un Fallen of Albats come mostro materiale da fusione dalla nostra mano quindi carta veramente molto forte durante la main phase questa carta è nel cimitero perché ci è stata mandata possiamo attivare il seguente effetto di Fallen of Albats praticamente questa carta se viene mandata al cimitero durante la main phase se questa carta viene mandata al cimitero perché ci è stata mandata per attivare un effetto di Fallen of Albats possiamo settarla ho partorito, ho partorito mamma mia, sempre più complicati poi Scrimsoft Branded se un mostro fusione è mandato al cimitero in questo turno possiamo specializzare un mostro fusione che è stato bandito oppure nel cimitero durante la main phase se questa carta è nel cimitero perché ci è stata mandata per attivare l'effetto di un Fallen of Albats e questo turno possiamo settarla poi Judgment of Branded targettiamo un mostro livello 8 superiore fusione controlliamo spacchiamo tutti i mostri dell'avversario con attacco uguale o superiore al mostro target durante la main phase questa carta è nel cimitero perché è stata mandata l'effetto di un Fallen of Albats se me lo sono imparato a premare possiamo settarla questa carta è veramente interessante poi Titaniclad the Ash Dragon queste sono le carte fusione che sono nel mazzo Fallen of Albats più un mostro con 2.500 attacco superiore guadagna attacco pare il combinato prende 100 per ogni stellina dei mostri utilizzati se no mi impappino dopo che questa carta viene evocata tramite fusione per il resto del turno è immuno agli effetti attivati degli altri mostri evocati specialmente dall'extra deck durante la main phase questa carta è nel cimitero perché è stata mandata in questo turno possiamo aggiungere alla mano specialare un Fallen of Albats oppure una carta dogmatica dal deck quindi è carta veramente leggermente scarsa mamma mia questi ce l'hanno nel structure deck da noi sta roba non uscirà mai poi Brigrand the Glory Dragon Fallen of Albats più un mostro livello 8 superiore non può essere sotto in battaglia quando togliamo questa carta evocata tramite infusione il tuo avversario non può targettare gli altri mostri con gli effetti dei mostri durante la phase land phase e questa carta viene mandata al cimitero se questa carta è nel cimitero perché ci sono mandata in questo turno possiamo aggiungere la mano speciale un Tree Brigade oppure un Fallen of Albats dal deck carta veramente interessante abbiamo visto anche che c'è il nuovo supporto Tree Brigade che nega effetti poi Sprint the Iron Dash Dragon Fallen of Albats più mostro effetto specialato in questo turno durante la main phase possiamo muovere questa carta in un'altra monster main zone poi possiamo distruggere tutte le altre carte scoperte nella stessa colonna durante la main phase se questa è la tenere mandata al cimitero se è il cimitero perché è stata mandata possiamo aggiungere dalla mano oppure speciale un mostro Springance oppure un Fallen of Albats carta interessante quindi un mazzo super mischione che raggruppa tantissimi archetipi per finire All Beyond and Brandon Dragon Fallen of Albats più un mostro luce se questa carta viene evocata tramite infusione possiamo fusionare un mostro di livello 8 inferiore dall'extra deck except eccetto lui mandando i materiali dalla mano terreno oppure cimitero durante la main phase se questa è la cimitero che ci è stata mandata possiamo aggiungere oppure settare una carta Branded Spell Trap quindi queste erano le 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 ristampe dello Structure Deck Alba Strike io direi se un mazzo è così veramente queste carte da noi non uscirà mai ma già che ci siamo andiamo a vedere le nuove carte di Battle of Chaos praticamente questa è tutta fuffa quindi diciamo che credo che abbiamo quasi finito il set perché queste carte non sono niente di che ok iniziamo Piselia non può essere distrutto in battaglia all'inizio del Damage Step se questa carta combatte con il mostro dell'avversario possiamo piazzare un segnalino pace massimo 4 poi applichiamo uno dei seguenti effetti in base al numero di counter che ha 1 prendiamo un mostro dal deck lo piazziamo in cima 2 peschiamo una carta 3 aggiungiamo un mostro dal deck alla mano e 4 aggiungiamo una carta qualsiasi dal deck alla mano mecha based dareton una volta opportuno possiamo attivare questo effetto l'attacco originale di questa carta diventa uguale alla differenza degli attacchi dei mostri con l'attacco originale che sono sul terreno non ho ben capito però ok non credo sia una carta che sarà utilizzata tantissimo lei invece è carina come carta epigonen te imiterian possiamo attributare un mostro in effetto lo specialiamo dalla mano e poi specialiamo un token livello 1 attacco difesa 0 con lo stesso tipo e attributo del mostro tributato quindi è una carta abbastanza cioè non è sta grande carta però come carta fuffa diciamo che ha il suo perché sub malign the citering ship se controlliamo un mostro normale possiamo specialare questa carta dalla mano una volta per turno la prima volta un mostro normale che controlli combattono un mostro non effetto non viene distrutto poi oddio orribile ma che faccia vabbè l'ipres the withered flounder durante la same phase questa carta nella mano al cimitero l'avversario e se l'avversario ha più carte nel suo cimitero di te possiamo specialarlo 1 alle 200 attacco per ogni carta nel cimitero dell'avversario carta veramente orribile di artwork però vabbè questo passa il convento questo passa la konami poi tribe drive carta trappola se abbiamo tre o più mostri con differenti tipi scegliamo tre mostri nel deck con tipi differenti ognuno dai mostri che abbiamo sul terreno e l'avversario ne sceglie una random te lo aggiungi la mano oppure te lo speciali poi rimettiamo le carte in fondo al mazzo in qualsiasi ordine potrebbe trovare spazio non credo urador of fate paghiamo 11 left points per targettare il mostro che controlliamo fino alla fine del turno dell'avversario quel mostro lo danni a 1000 e applichiamo il seguente effetto quando quel mostro ristrugge un mostro in battaglia possiamo rivelare la prima carta del deck e se lo facciamo ritorniamo facciamo ritornare entrambi in cima al mazzo se la carta è rivelata un drago dinosauro serpente maina o wirm peschiamo una carta per ogni 1000 di attacco del mostro che abbiamo fatto ritornare nel mazzo e guadagniamo 1000 life points per ogni carta pescata ok questa è complicata ma è carina è top shade prendiamo una carta dal deck la riveliamo e la piazziamo in cima al mazzo poi l'avversario fa la medesima cosa si prende una carta all'ammazzo della rivela e se la mette in cima va bene questa carta completamente strana che non credo nessuno giocherà mai a meno che non ci siano mazzi strani detto questo fenomeno alba strike è al momento questo è tutto noi come sempre ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate e niente ragazzi un saluto a tutti non ci vediamo